La Pasqua La Pasqua, come sappiamo dal termine ebraico Pesach, vuol dire passaggio. Vorrei augurare alla nostra città che davvero attraversi questa crisi, cioè nel senso che la passi, che da una situazione di morte possa effettivamente aprirsi ad una situazione di vita. Concretamente in che cosa consiste? L'augurio più grande è che le famiglie, anzitutto, possono trovare la gioia di poter condividere assieme, non solo questi giorni di festa, ma sempre, condividere assieme il pane che viene guadagnato con il sudore della fronte. Il problema è proprio qui, che la maggior parte delle nostre famiglie gelesi e non vivono questa difficoltà a poter lavorare e quindi a poter guadagnare il pane. Allora il mio augurio consiste proprio nel fatto che loro possano trovare, e questo dobbiamo stringerci un po' tutti, non solo le istituzioni, ma anche le varie imprenditorie, eccetera. Dobbiamo cercare in tutti i modi di fare corpo perché la gente, la gente povera, la gente che perde il lavoro, questo evidentemente non accada mai. È stata scelta la ricorrenza della giornata della memoria dell'impegno dedicato a tutte le vittime delle mafie, organizzata in ambito nazionale da Libera Associazione Nomi e Numeri contro le mafie, per la consegna questa mattina del bene di Contrada Vituso a Niscemi, confiscato alla mafia e ristrutturato in centro di accoglienza per diversamente abili, di cui è presidente Walter Donato Boscaia. Si tratta di uno fabbricato di circa 200 metri quadrati con attiguo terreno agricolo, costituito da due piani e comprendente anche una sala per la riabilitazione intitolata alla memoria del giudice Rosario Livatino. Alla cerimonia di consegna oggi erano presenti autorità civili, militari e religiose. La nostra associazione è un'associazione che esiste da più di 30 anni, la denominazione già contraddistingue l'oggetto dell'associazione perché l'associazione è costituita da familiari di soggetti diversabili. All'interno della struttura le attività che noi faremo saranno variegate, anche perché parliamo di arte, parliamo di sport, parliamo anche di gastronomia e parliamo di autonomia perché diciamo che il progetto fondamentale è quello di rendere autonomi le persone che frequentano queste strutture. Quindi l'inclusione sociale per noi diventa l'obiettivo prioritario per le persone. Nello Musumeci, presidente della commissione regionale antimafia. Io sono contento che questa struttura qui a Niscemi, una città che ha dovuto fare i conti con una presenza malavitosa e criminale certamente ingombrante, questa struttura saprà essere la testimonianza di una rivincita e di un riscatto, di una nuova stagione. Niscemi è una città di persone perbene, oneste e laboriose e una sparuta minoranza non può assolutamente offuscarne la chiara immagine. Il sindaco di Niscemi, Francesco Larosa. Si inaugura un centro riabilitativo che sorge sulle ceneri di un bene che è stato confiscato alla mafia. Oggi è il 21 marzo, primo giorno di primavera, un giorno di rinascita, un giorno in cui il bene sopraffa il male. Vedi, questo era un terreno dove insisteva all'epoca un casolare che è stato poi confiscato naturalmente alle mafie ed è stato riconsegnato alla città sotto un'altra forma, sotto una forma vera, quella che è dovuta da chi ha fatto abuso del territorio. Dalle generi è nata questa bella struttura, che è stata abbattuta alla Vettia e rinasce un centro che poi viene destinato ai diversamente abili. E dal bando che noi abbiamo predisposto, chi ha vinto sono stati i genitori dei soggetti portatori handicap. La regione Sicilia può fare e non fa, anzi proprio il governo regionale scarica le responsabilità su Roma, sui tanti ministeri. La denuncia porta la firma di Cigel Cisle Will in merito all'avvertenza Gela. Nell'ultimo incontro, datato 24 febbraio al Ministero dello Sviluppo Economico, il verbale redatto dei presenti sottolineava che per quanto riguarda la problematica degli ammortizzatori sociali, il vice ministro Bellanova ha confermato quanto già detto in occasione dell'incontro con le istituzioni siciliane, ovvero che la parte preponderante della problematica riguardante gli ammortizzatori sociali dell'indotto verrà affrontata in ambito regionale. I rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico incontreranno inoltre le imprese dell'indotto che si trovano in situazioni critiche al fine di verificare ogni possibile intervento a sostegno di quest'ultime. Dal 24 febbraio è già passato quasi un mese e i sindacati confederali e la Prevettura continuano ad inviare richieste di incontro e note specifiche riferite alla evidente scopertura finanziaria che tanti lavoratori stanno subendo in materia di fruizione degli ammortizzatori sociali. Che senso ha il convincimento operato dal sindacato nei confronti degli imprenditori di evitare i licenziamenti e percorrere la strada della Cassa Integrazione straordinaria o in deroga se poi la Regione, tornando da Roma, sceglie la via della latitanza? I segretari confederali Ignazio Giudice, Emanuele Gallo e Maurizio Castania hanno denunciato il silenzio della politica ed oggi, malgrado il buonsenso da parte di centinaia di lavoratori dell'indotto, annunciano azioni di protesta su Palermo subito dopo le festività pasquali. La lotta dei lavoratori, la loro pazienza, il buonsenso di alcuni imprenditori, il puntuale lavoro della Prefettura non possono ricevere la distanza istituzionale del Governo regionale che in questa complessa vertenza sta dimostrando inaffidabilità e colpevole disattenzione. Tutti, ribadiscono Cigelle e Cisle Will, devono rendersi conto e prendere coscienza della disperazione presente in migliaia di famiglie già in crisi per carenza lavorativa ed oggi classificabili come nuovi poveri. I sindacalisti poi pongono alcuni interrogativi. La Regione può permettersi di non considerare la vertenza Gela tra le più drammatiche nell'ultimo ventennio nel Sud Italia? Può la stessa Regione costringere lavoratori e sindacato a manifestazioni estreme che rischiano di compromettere l'ordine pubblico? Può la Regione ledere la dignità di tanti uomini e tante donne in attesa di risposte concrete? Il silenzio del Governo regionale fa sorgere altre domande. Forse non esistono le somme stanziate da parte del Governo regionale riferite agli ammortizzatori sociali? Se così fosse, chiudono i sindacati. Perché lo stesso Governo non ha detto nulla durante la riunione del 24 febbraio al Ministero? Questo atteggiamento inquieta il sindacato confederale che pretende dal Governo una risposta chiara così da comprendere quale strada intraprendere per tutelare il reddito di centinaia di lavoratori. Il segretario provinciale del Partito Democratico, Giuseppe Gallè, sembra non avere dubbi. Noi invece sì. Quindi interrogarci oggi sulla bontà dell'azione che stiamo mettendo in campo dopo il congresso del 13 marzo sembrerebbe un esercizio che non ci aiuta ad affrontare il problema con la serietà e con la determinazione che il momento ci impone. Lo dicono Fabio Colorai e Giuseppe Ferrara, rispettivamente segretario e presidente del PD Gela 2016. Evidentemente, dicono, questioni che hanno riguardato e riguardano i destini della comunità gelese non sono comprensibili al segretario Giuseppe Gallè. La portata dei drammi umani, sociali ed ambientali sono sotto gli occhi di tutti, ma per Gallè stanno lontano più di 80 chilometri. Noi continuiamo ad essere dell'idea che è sempre meglio pensare di emulare Rivera che di gol, per lo più frutto di genio e fantasia, ma in ogni caso regolari ne ha fatti parecchi, anziché assurgere al moggi della situazione cui certi autogol, senza nemmeno scendere in campo, tanto male hanno fatto al calcio. Dall'arresto è più importante per Gallè arzigogolarsi ad interpretare gli aspetti burocratici e statuari e del PD, naturalmente ad uso e consumo di parte. Mentre Roma si discute, Sagunto cade. Sappiamo bene, continuano con Lora e Ferrara, che chi vuol innovare, costruire e cambiare disturba sempre qualcuno, suscitando, come è caduto, scomposte quanto inutili reazioni mirate alla delegittimazione di quanti, invece, attorno a queste questioni, vogliono ritrovarsi per continuare questa battaglia, che è una battaglia di democrazia e di libertà. La nostra non è dunque una scelta ideologica, bensì una scelta a tutela delle comunità che vogliamo rappresentare e Gela, in questo momento, ha bisogno di un PD inclusivo, senza esclusioni, a partire dalla celebrazione dei congressi di tutto il PD e tutti legittimati. Per questa via allontaniamo da pensieri artificiosi, attribuzioni tendenziose, circa presunte dichrazioni diffamatorie e calugnose, nei confronti di Peppe Di Cristina, a cui vogliamo bene e le cui doti politiche ed umane riconosciamo. Auspichiamo, chiude la nota, che la segretaria Quelle voglia prendere atto dei limiti manifestati sulle attenzioni riposte alla città e al partito di Gela e lasci ad altri giovani dirigenti, quelli liberi e incondizionati, ma impegnati a rifondare con la propria freschezza culturale, che un partito democratico diverso e una città diversamente bella e prosperosa, è possibile. Si è svolta ieri alla scuola Ettore Romagnoli di Gela la seconda giornata regionale per il contrasto al bullismo nelle scuole. Erano presenti, oltre le autorità civili, militari e religiose, il presidente del Tribunale per i minori di Caltanissette, il procuratore capo dello sesto presidio giudiziario. Ho avuto modo di citare la tesi di un giudice onorario del Tribunale per i minori emblematicamente intitolata dal bullismo alla mafia. In fondo il bullo e il mafioso fanno ricorso alle stesse categorie mentali, pratiche, entrambi usano una violenza, che può essere violenza fisica, può essere violenza verbale, può essere violenza psicologica. Entrambi fondano il proprio operato sull'omertà, cioè sul fatto che chi sta attorno, la vittima e il contesto sociale, non parlano, non denunciano. Non necessariamente dal bullismo alla mafia, ma dal bullismo al reato, questo sì. Dottoressa, purtroppo il fenomeno del bullismo è un fenomeno in continua ascesa nelle scuole a partire dalla primaria. Qual è il confine tra questo fenomeno e poi i comportamenti devianti? Ma guardi, intanto effettivamente confermo che si tratta di un fenomeno in crescita, perché l'ufficio che io dirigo, la procura presso il Tribunale per i minorenni, ha una dimensione distrettuale, quindi il mio osservatorio è un osservatorio privilegiato, perché abbiamo dinanzi la provincia di Caltanissette e la provincia di Enna. E devo dire che abbiamo registrato diversi casi, persino dei casi di bullismo rispetto a minorenni non imputabili, quindi che ancora non hanno raggiunto il 14esimo anno di età e rispetto ai quali comunque la procura si può muovere grazie alle competenze in ambito civilistico. È un fenomeno che bisogna prendere molto seriamente, perché dicevo poco fa ai ragazzi non c'è nessun tipo di equivalenza tra il fenomeno del bullismo e comportamenti di tipo mafioso, però è anche vero che a volte i comportamenti del bullo sono dei comportamenti che costituiscono l'anticamera rispetto all'assunzione di quelle condotte che poi noi andiamo a perseguire negli adulti e non solo negli adulti e che hanno una connotazione prettamente mafiosa. Quindi è sicuramente un problema rispetto al quale noi dobbiamo avere una grandissima attenzione che va assolutamente affrontato sia in ambito repressivo, preventivo, sia in ambito ovviamente educativo. Ha relazionato tra gli altri il responsabile dell'Osservatorio Provinciale di Spersione Scolastica, Salvatore Benfante Picogna. Che cosa un insegnante deve fare immediatamente quando si accorge di trovarsi dinanzi a questo tipo di fenomeno? Sicuramente l'insegnante deve intervenire perché uno dei compiti della scuola è quello di educare i bambini e gli adolescenti ai comportamenti socialmente condivisi e quindi creare buone relazioni tra gli studenti ed evitare queste forme devianti che certamente in ambito scolastico vanno trattati con gli approcci, con i metodi educativi. È chiaro che quando si ha la percezione che questi fatti siano gravi vanno assolutamente informate per il tramite del dirigente scolastico anche l'autorità giudiziaria, la quale come il Tribunale per i minorenni e la Procura per i minorenni non hanno soltanto il compito di reprimere ma anche quello di prevenire quindi loro agiscono solo ed esclusivamente nell'interesse del minore. Il dirigente scolastico Sandra Scicolone. Molti episodi che vedono soprattutto studenti vittime di atteggiamenti che possono in qualche maniera accostarsi al fenomeno sociale del bullismo spesso perdono anche il piacere e la gioia di andare a scuola proprio perché temono di entrare in un contesto che non è più amico, in un contesto che diventa luogo di pericolo in un contesto dove non si sentono accettate. Quindi è ovvio che possa esserci un percorso non parallelo ma assolutamente coincidente tra fenomeni di dispersione e fenomeni di bullismo. Le scuole in ogni caso devono essere sempre in prime linee nel fronteggiare un fenomeno che è statisticamente presente in maniera rilevante proprio all'interno delle istituzioni scolastiche proprio all'interno delle dinamiche d'aula. Numerose lettere inviate all'amministrazione comunale precedente ed attuale al fine di intervenire per rendere una zona di gela praticabile. Tante le richieste avanzate ma al momento attuale nessuna risposta. Ci troviamo in via Recanati. Una parte di strada è asfaltata, l'altra no. E quando piove le abitazioni che insistono al piano terra vengono inondate d'acqua. E non solo, la zona è piena di insetti e ratti. Ancora oggi abbiamo una rete idrica che è un collaborato che si possono vedere alcune perdite che sono state condivide con alta acqua per farle riparare e nessuno si vede. La rete fognaria è una rete fognaria fatta pure da 40 anni, sempre privatamente. Tanto è vero che con alta acqua, spesso e continuo, vengono degli autospurghi per spurgare proprio questa linea. È impossibile venire in queste zone e io mi chiedo come è possibile che quasi alle porte del 2020 ancora in città esistano queste strade. Vorrei un attimo una presa di coscienza dai nostri dirigenti, dai nostri sindaco e tutta via a scendere, come è possibile ancora che la gente vivere in queste condizioni. Però pagano che tasse. Parliamo di una strada comunale anche se sembriamo in aperta campagna. Io invito queste persone per la seconda volta, per la terza volta, per quello che è. Se loro si mettono la mano della coscienza e diciamo guarda che noi dopo domani facciamo le cose, però dopo domani. Non che mi dicono il giorno, l'ora, però l'anno non lo so, non lo sappiamo ancora l'anno. Ora, speriamo che oggi il telegiornale se lo sente qualcuno che è il responsabile veramente e dice guarda, diamo un bugno a questa cosa di qua. Le scene salienti della vita di Gesù dall'Annunciazione alla Resurrezione si tratta dell'opera realizzata da un gruppo di docenti della Scuola Santa Maria di Gesù di Gela. È il frutto della sinergia delle competenze e abilità legate al mondo della storia, arte e tradizioni inserito nell'ambito del progetto Scuola e Territorio. Gesù Cristo è una figura storica, documentata, quindi non è solo un momento religioso. Certo, per chi è cattolico riveste anche un'importanza religiosa, ma oltre al tema sicuramente è importante, è importante l'idea progettuale, il costruire, il fare che per i ragazzi diventa importante, soprattutto per alcuni ragazzi, quei ragazzi che magari non hanno l'opportunità di dare, dimostrare ciò che sanno fare perché magari non sono così bravi a parlare, mentre a fare diventano più bravi. I docenti che hanno realizzato l'opera. In una società in cui si tolgono i crocivisti dalla scuola, non si festeggia più il Natale, invece è bellissimo il fatto che la nostra preside, ed è questo che io volevo sottolineare, ha voluto prepotentemente questo progetto, oltre per la bellezza e quindi un discorso estetico, soprattutto per un discorso di tradizioni, di valori. Non si può dimenticare che siamo cattolici e che quindi la nostra cultura è formata da questo, non si può dimenticare e ricordarlo e ricordarlo ai bambini è fondamentale. Ma anche altri possono visitare l'idea progettuale? Sì, soprattutto è aperto al territorio, proprio perché magari è una realtà che deve essere conosciuta da altri, per lo stesso discorso che diceva il collega, proprio per puntare sul valore di questo progetto, che non è solo un valore così artistico, artigianale, perché siamo stati tutti degli artigiani, ci siamo ecco inventati, reinventati. Però è il valore, è importante oggi capire i valori cristiani. L'idea progettuale è stata realizzata anche grazie alla collaborazione di un architetto. Cosa avete utilizzato per realizzarlo? Un po' di tutto, siamo passati dal materiale di riciclo, quindi con i giornali che i bambini hanno portato da casa, quindi aiutando anche la comprensione, l'educazione al riciclo. Abbiamo usato la colla, abbiamo usato degli scampoli di stoffa che avevano a casa, quindi abbiamo usato quello che era scartato, il legno, il gesso, i colori, insomma un po' di tutto veramente. A Lugnetto, ieri sera nei locali della scuola Luigi Capuana di Gela, grazie alla preziosa collaborazione dei docenti, hanno portato in scena il musical Il Risorto. è stato un appuntamento che ha richiamato l'attenzione dei genitori ed anche di alcuni curiosi. Un po' faticoso, ma ci siamo impegnati, ci siamo divertiti. Ed è stato bello vedere l'applauso del pubblico. Sì, bellissimo. E noi questi musical li facciamo con un significato della recita, non per farla così tanto per. Ed è stato facile oppure impegnativo? Facile, perché già era scorsa e ci è venuto facile fare, era solamente una ripassata. Soddisfatto il dirigente scolastico Cetta Mongelli. Questo messaggio dell'amore all'altro è stato importantissimo proprio all'interno di questo gruppo classe. I genitori di questa classe sono stati eccezionali, favolosi e quindi hanno accettato anche per i loro figli i momenti di difficoltà, però ce l'abbiamo fatta. Siamo in quinta, i bambini sono sereni, anche i genitori sono sereni e le maestre hanno dato l'anima. Questo musical, il Risorto, è proprio la chiusura più bella che poteva esserci per cinque anni trascorsi con momenti di difficoltà ma sempre superati alla grande. I docenti che hanno preparato gli alunni alla rappresentazione musicale sono rimasti piacevolmente colpiti dal modo in cui gli studenti hanno messo in campo le loro capacità. Di solito a livello scolastico che cosa si rappresenta? Soltanto il Natale, si fa il presepe, si fanno delle rappresentazioni anche in parrocchia, però noi come proprio scuola abbiamo voluto invece toccare proprio l'animo dei bambini e anche penso del pubblico facendo proprio questa rappresentazione nel periodo proprio di Pasqua in questa settimana santa. I nostri bambini sono assolutamente abituati ad interpretare, a fare certi musical e poi è anche facile perché sono abituati questi bambini, questi nostri alunni a comunicare emozioni e sentimenti attraverso il corpo. Noi diamo molta importanza alla comunicazione intrapersonale e interpersonale per cui diciamo che non è stato difficile. Anche quest'anno la Corsa Campestre ha avuto la sua location privilegiata al Parco di Montelungo. Che bilancio è quello di quest'anno? Ma direi favoloso, eccezionale, ancora magari qualche altro aggettivo lo aggiungerei, però siamo alla settima edizione del Cross di Primavera. Oltre 800 bambini partecipanti accompagnati dai rispettivi genitori, insegnanti e spettatori, nonni, zii che sono venuti qui a trascorrere il primo giorno di primavera, il 21 marzo, primo giorno di primavera, a vedere i colori della natura e a sentire i suoni degli animali che si risvegliano, sicuramente è un bilancio non che positivo di più. Portare qui centinaia di bambini e le scolaresche a vivere questa giornata è emozionante, soprattutto per la valorizzazione di questo sito e di questo parco urbano. Finalmente possiamo tirare le somme e speriamo che l'amministrazione comunale percepisca questi messaggi, ma non solo da parte della Green Sport, ma di tutta la cittadinanza che è venuta qui a trascorrere questa giornata. Corpo forestale, Emilio Giudice, Lago Biviere, Croce Rossa, Tutti si sono prodigati per la sicurezza, il divertimento e la valorizzazione della natura e soprattutto per la Green Sport che ancora crede e combatte su questi valori. Oggi dunque vince lo sport e il rispetto della natura? Vince lo sport, vincono gli alberi che abbiamo donato ai bambini che porteranno a casa, orgogliosi, che pianteranno anche a scuola perché abbiamo premiato anche le scuole con gli alberi. Insomma, la voglia di avere del verde sempre di più in una città martoriata dall'inquinamento e speriamo che con questi alberi lanciamo un messaggio forte di vita e di crescita. C'erano anche i componenti del comitato spontaneo Gelensis Populus ieri all'Assemblea regionale siciliana. Si è parlato di liberi consorsi dei comuni, l'iter per il passaggio del comune di Gela nell'ambito dell'area metropolitana di Catania appare ancora a lungo e complicato. Ieri è stata una giornata molto intensa, è partita con un nostro sit-in di Lanzi a Palazzo d'Orlean, cioè la sede della Presidenza della Regione. Dopodiché, al momento dell'inizio dei lavori d'aula, ci siamo spostati a Sala d'Ercole per seguire i lavori d'aula. Ieri, al primo punto dell'ordine del giorno, c'era la votazione in ordine al DDL 1070 e eravamo gli unici presenti in aula. Il dibattito è stato serrato e alla fine si è deciso per proporre degli emendamenti relativamente alla riscrittura della legge entro la serata di oggi. Alleggiava un'area favorevole a questo trasferimento o no? Che area tira la Regione? Vari deputati, erano tutti assolutamente concordi nel fatto che la volontà popolare delle comunità che avevano scelto il passaggio ad un altro libero consorzio o nel nostro specifico caso all'area metropolitana di Catania, doveva andare assolutamente rispettato. Il governo regionale era rappresentato da due assessori, dall'assessore Lantieri e dall'assessore Baccei. Chiaramente erano molto preoccupati della situazione e anche loro si auspicavano che l'approvazione avvenisse quanto più in fretta possibile. Però certamente alle parole e alla preoccupazione non stanno seguendo i fatti, perché ricordiamo che il passaggio effettivo di Gela, Niscemi, Piazza Armerina e Licodio Ubea si concretizzerà solo allora quando arriverà in aula il DDL di Giunta, non il DDL della Commissione Affari Istituzionali, ma il DDL di Giunta, presieduta dall'On. Crocetta, che è quello che chiuderà e sancirà l'effettivo passaggio, ridisegnando i confini territoriali.